Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi parliamo dello Skin Realist di Nabla. Allora, prima di tutto dobbiamo un attimino presentarci perché sicuramente tra di voi c'è qualcuno che non mi conosce. Sono io, sono Simona, sono più di 10 anni che ho un canale qui su YouTube e se non sei ancora iscritto al mio canale ti invito a farlo, di interagire con me, like, commenti e quant'altro. Detto ciò, passiamo subito al video. Oggi parliamo dello Skin Realist che è questo nuovo fondotinta, no, non è un nuovo fondotinta, bugia, ho sbagliato sia io a dirlo ma soprattutto ho notato che è un po' online, non si è capito bene che prodotto è lo Skin Realist di Nabla. È un prodotto un po' particolare, io vi leggo la dicitura proprio dal sito ufficiale così vediamo se ci hanno ragione oppure no. Skin Realist è una crema colorata, perfezionatrice della grana della pelle a base di microsfere di acido ialuronico. La sua texture cremosa e aderente, ibrida tra makeup e skincare, si fonde con la pelle uniformandoli incarnato e donando istantaneamente un aspetto di pelle fresca, liftata, rimpolpata e dal finish radioso e levigato. La formula di Skin Realist, ricca di ingredienti attivi, agisce come trattamento che promuove la sintesi di collagene ed elastina per un effetto sia immediato che a lungo termine. Ogni shade si adatta bene ai vari tipi di pelle e di colore. I benefit sono effetto radioso e levigato, coprenza leggera, stratificabile, facile da applicare, aderente sul viso, pelle, nessuno spreco di prodotto grazie al sistema airless, ma ci arriviamo tra pochissimo, ricco di attivi con efficacia testata, effetto lifting, pelle rimpolpata, miglioramento della trama cutanea, la pelle più idratata fino al 31%, non come d'ogeno, adatto ad ogni tipo di pelle. Ok, dopo aver letto brevemente quello che dice il sito ufficiale, passiamo un po' a quello che dico io. Premesso che io sono una appassionata di skincare, di makeup, nonché sono una makeup artist professionista, nel senso che ho studiato e sono quasi sempre aggiornata su nuove texture, io ho proprio una fissa per le base viso. C'ho la calamita per tutti i fondotinta, c'ho sicuramente un problema perché per me appena esce un nuovo prodotto viso sono proprio attratta, che possa essere una BB cream, un fondotinta, piuttosto che una cipria, un primer, qualcosa che riguarda praticamente la pelle, probabilmente perché in passato ho sofferto un po' di acne, ho sofferto sempre di una pelle impura e prediligo basi superleggeri, leviganti, che facciano un po' quello che è la mia filosofia, il trucco c'è ma non si vede. Quando è uscito questo prodotto ho detto wow, non vedo l'ora di provarlo e ringrazio Nabla per avermelo inviato. Questo video non è in collaborazione con Nabla, ma lo faccio per mia spontanea volontà e proprio perché ho capito che online c'è un po' di confusione. Sapete che Nabla vende già un prodotto fondotinta ad alta coprenza modulabile, il Futuristic Foundation, che a me piace tanto, leggero, ossida leggermente ed è un bellissimo fondotinta. Adesso è uscita fuori con questo prodotto che è una BB cream, cioè è una crema colorata, lo definiscono modulabile, io lo definisco poco modulabile, cioè non potete fare grandi strati perché comunque non è un fondotinta, quindi comunque sia non è che si asciuga perfettamente e mi piace tantissimo il concept aziendale per cui adesso si sta andando più incontro alle persone che non utilizzano Photoshop, non utilizzano troppi filtri su Instagram o non utilizzano magari filtri su Instagram perché stiamo subendo una pressione mediatica per quanto riguarda la pelle levigata senza imperfezioni. Quindi infatti se andate a vedere sul loro sito, sui loro social, loro fanno vedere questa pelle con imperfezioni. A mio avviso, se vedete la base di oggi che ho realizzato proprio con questo prodotto, io riesco ad ottenere una base leggera, come piace a me, opaca, quindi non lucida, grassa, unta, perché comunque ho una pelle mista grassa, quindi non posso utilizzare base troppo corpose. Comunque è bella, a me piace tanto la base che è venuta oggi, sono andata solo col correttore dove la BB Cream non è riuscita ad arrivare. Diciamo che per quanto riguarda l'effettore impolpante, levigante, non sono tanto tanto d'accordo ma perché effettivamente non l'ho provato su una pelle AG con tante rughe, l'ho provato solo su me stessa e posso dirvi che sì, leviga la pelle, affina un po' la grana cutanea, ma non posso dirvi che vi distende la pelle. A mio avviso non esiste un prodotto che va proprio a togliere le rughe o quantomeno a fare l'effetto lifting. Altra cosa che ci tengo a dirvi che non posso confermarvi è il test di 28 giorni che dopo 28 giorni l'azienda assicura idratazione, effetto lifting, effetto barriere, elasticità, compattezza, rugosità, effetto fatica e trama cutanea. Cioè praticamente dopo circa 28 giorni di continuo utilizzo la pelle migliora. È un prodotto che ho da circa 15 giorni ma non l'ho utilizzato proprio tutti tutti i giorni ma tre giorni consecutivi, poi ho cambiato fondotinta. Questo perché? Perché a me piace prima di tutto sperimentare e cambiare, mi piace provare prodotti nuovi sempre per la base, sapete che ho questa fissa ormai da un po'. E soprattutto perché credo che un determinato prodotto sia utilizzato quotidianamente per tanti giorni su una pelle come la mia potrebbe essere un po' too much. Direte voi allora per quali pelle è indicata? Sicuramente per una pelle da mista, secca, secondo me ha una performance eccezionale perché è veramente ricco di acido ialuronico, si sente sulla pelle, teoricamente non c'è bisogno nemmeno di applicare sotto una crema o un siroidratante, ma potrebbe andare anche da solo. E si adatta bene anche da una pelle mista, non propriamente grassa, seborroica, con una zona T super lucida, ma una pelle mista che si comporta bene e che è trattata bene. Mi spiego, io ho una pelle mista che in questo periodo dell'anno diventa molto lucida, non è il prodotto perché qualsiasi fondotinta su di me comunque diventa lucido, ad eccezione del Double Wear di Estée Lauder che dove lo metto lì si fissa, lì non si smuove, ma quello è un fondotinta a parte che spesso vi dico che è ad uso quotidiano, magari potrebbe anche essere un po' pesante. Questo per dirvi che in realtà è un prodotto che sì, mi piace, se vuoi avere quella coprenza leggera, mi ricorda tantissimo l'Alo di Smashbox, il BB Cream fondotinta che ha tanti principi attivi, mi ricorda tantissimo quello. Perfezionatore dell'incarnato, l'ho già sentito dal prodotto di Diego Dalla Palma, questo, che però sulla mia pelle non si comporta per niente bene, divento veramente lucidissima, va provato in inverno inoltrato e poi vi farò sapere, perché adesso l'ho acquistato circa un mesetto fa, ma già faceva abbastanza caldo e appena lo applico divento lucida e anche questo lo chiamano perfezionatore della pelle. Diciamo che è un prodotto trattamento, lo Skin Realist di Nabla, parlando del pack che è super carino, veramente molto bello, esiste in sette colorazioni, quindi anche abbastanza, essendo una sorta di BB Cream, quindi si adatta a tantissimi incarnati. Io mixo la light al... no, sì, la light al medium, quindi 2-3. 38 ml di prodotto sono tanti, perché considerate che le creme di base sono 50 ml, le BB Cream solitamente sono un 40 ml, quindi un 48 ml e poi non c'è nessuno spreco di prodotto, perché il sistema è airless. Il sistema airless vuol dire che è sottovuoto, cioè questa... vedete questa strisciolina qui? Man mano che il prodotto finisce, sale, sale, sale sempre di più, finché praticamente è zero. Ve lo consiglio? Sì, ve lo consiglio se avete un'esigenza simile a quello che dà il prodotto, nel senso se volete una comprensa leggera, una BB Cream è un'ottima BB Cream, spesso me lo chiedete, quindi sì, questa è un'ottima BB Cream. Secondo me non è tantissimo modulabile, perché comunque rimane morbido sulla pelle, quindi sì, è un prodotto che mi piace, non si adatta alle pelli grasse, come vi dicevo prima, però se avete la tipologia di pelle che si comporta abbastanza bene, secondo me va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e vi lascio agli acquisti e vi do un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!